Un parigio che accontenta tutti, nel dopo partita non sembrerebbe, ma in fondo in fondo i rispettivi obiettivi sono stati centrati. Una tappa di avvicinamento, questa è stata la partita del comunale di Capistrello, verso la salvezza per i marzigani e verso la serie D per i teatini, che si presentano nel proprio popolo rumoroso e festante ad invadere la tribunetta valentina che oggi si presentava a forti tinte nero-verdi. E anche il rettangolo di gioco, dopo questa iniziale sortita offensiva paternese firmata a Gordischi, è invaso da 11 teatini assai spirati, come dimostra già questa pericolosa sortita del secondo minuto. Al quarto poi di Ciccio inizia a far capire l'antifona depositando di piedi di poco a lato. La rete è già nell'aria e al sesto ancora di Ciccio, sugli sviluppi di un tiro d'angolo, non perdona Ranalletta e indirizza quella che sembra una replica di quanto visto contro il Capistrello. E invece? Ma procediamo per ordine, siamo ancora all'ottavo quando un cadone razzurro va a finire sul palo. Il Chieti recrimina, ma non demorde, il paterno gioca di rimessa e punge con un ispirato Albertazzi che chiama Alonzi al colpo di Regni. Le azioni si dipanano fra gli standardi nero-verdi che però non sembrano ispirare Delgado che al quindicesimo tutto solo la appoggia sul palo. Anche il 2-0 sembrerebbe maturo quindi, ma non sarà così. Intanto al ventesimo Micicchè, di casa sul campo capistellano, dà del tuo a un diagonale che Ranalletta respinge con rispetto e abnegazione. Festival Chieti che sembra infinito e invece si chiude al ventinoesimo quando la coppia di Paternesi mette su un pari da urlo. Dribbla a Stornelli, tocca Albertazzi e per Alonzi non c'è scampo. È spaisato ora l'undici teatino che in chiusura di tempo rischia addirittura il 2-1 locale. Rimessa Fellini, testa di Mastroianni e di Fabio spizza di poco al lato. Capovolgimento di fronte e Micicchè prova a farne una delle sue. Classico tiro a giro, ma lo specchio della porta rimane più in qua. Primo tempo pirotecnico, ripresa più compassata almeno sino al diciottesimo quando Delgado conclude al lato per i suoi. Ventinoesimo, il neo entrato Cellucci cerca la rete di rapina, ma Ranalletta è sveglio e attento e si salva. Due minuti più tardi però il match point è tutto per i teatini. Impatto con Micicchè è calcio di rigore. Sul dischetto si porta Marfisi che spiazza e indirizza la partita. Match chiuso potrebbe sembrare, ma i più attenti noteranno di certo che all'ottantottesimo Fellini è chirurgico e Mastroianni è ora pace nel realizzare il definitivo 2-2. Che come dicevamo qualche minuto fa, è buono per molti, ma non per tutti. Mastroianni, il pareggio non ti aspetta. Ciao prima di tutto, è stato un pareggio sofferto, sapevamo di incontrare una grandissima squadra e così è stato. I primi 20 minuti siamo partiti un po' spesati, poi dopo ci siamo ripresi bene. Siamo riusciti a portare un risultato molto importante per noi che fa morale, ci fa andare avanti con la convinzione giusta. Mister Lucarelli, innanzitutto bentornato a casa. Grazie, grazie. Senti mister, ti do del tu perché ci conosciamo da una vita ormai, il traguardo è comunque vicino, ma oggi l'errore se c'è stato è non aver ammazzato una squadra che stava brancolando nel buio. Sì, forse dovevamo essere più cinici quando abbiamo avuto l'occasione, non lo siamo stati, abbiamo tenuto una partita in bilico e poi abbiamo perso anche un pochettino di distanze, un pochettino ci siamo innervositi perché vedevamo che la partita non stava andando come noi volevamo, però bisogna dare meriti pure al paterno che ha fatto una partita importante, non hanno mollato mai e ci hanno reso la vita un po' difficile. Il dispiacere è stato solo questo perché bene 25 minuti credo, anzi benissimo, forse i migliori, però poi in realtà abbiamo avuto un blackout un pochettino di, io dico, di un po' di presunzione che ci può stare. Dopotutto veniamo da otto vittorie consecutive fuori casa, fa parte anche delle statistiche, non riuscire a vincere sempre. Domenica ci dobbiamo rifare. Mister Torti, c'è stanchezza ma anche soddisfazione? Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra prima in classifica, forte, siamo partiti bene noi, abbiamo avuto subito l'occasione con Stornelli, poi loro hanno avuto 20 minuti dove veramente ci hanno messo in grande difficoltà. Da incubo? Ma no, ma anche perché non riuscivamo neanche proprio a giocare, cioè non riuscivamo a tenere una palla, non riuscivamo a scaricare, non riuscivamo a fare nulla. Ci hanno fatto il gollo su una situazione che noi avevamo detto in settimana, quello che facevano, e lì siamo andati un po' in confusione. Poi piano piano ci siamo ripresi, abbiamo cambiato modo di stare in campo perché da 3-5-2 siamo passati 4-3 anche noi, e lì la squadra ha cominciato a venire fuori, gli ultimi 20 minuti del primo tempo sicuramente ha fatto bene.